Sono nove gli esercizi commerciali in cui la Guardia di Finanza di Pesaro ha rilevato violazioni del Codice del Consumo che hanno portato al sequestro di oltre 38.170 prodotti. Tutti erano non conformi alla normativa in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La commercializzazione di beni sul territorio nazionale infatti richiede un'obbligatoria indicazione almeno della denominazione legale o merceologica del prodotto, del produttore o importatore ma anche del paese d'origine e dell'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arriccare danno all'uomo, a cose o ambiente e le istruzioni e le eventuali precauzioni per la destinazione d'uso. I prodotti e posti in vendita di valore commerciale complessivo pari ad oltre 20.000 euro sono stati dunque sequestrati e ritirati dal mercato dalle fiamme gialle e i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative. Le sanzioni pecuniarie potrebbero andare anche fino a 25.800 euro. L'operazione rientra nel quadro delle attività svolte dalla finanza a contrasto della commercializzazione di prodotti che possono recare danno alla sicurezza e salute del consumatore. I controlli, nello specifico, sono stati effettuati dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Fano. I controlli, nello specifico, sono stati effettuati dalla